La Regione Campania ha concluso positivamente le procedure di accreditamento definitivo del Radio Sargeri Center presso l'ospedale di Agropoli, a ressicurare i cittadini e il direttore generale dell'Asla Salerno Antonio Giordano che nella giornata del 27 marzo ha fatto visita al presidio ospedaliero agropolise. Radio Sargeri come sapete ha avuto la convenzione, adesso siamo in attesa del codice per poterla far funzionare regolarmente, ma su Radio Sargeri, quindi tranquillizziamo tutti, la struttura continuerà a lavorare, saranno regolarmente pagati, quindi voglio dire i cittadini e le persone che devono afferire alla struttura di Radio Sargeri possono essere tranquilli da questo punto di vista. Stiamo ancora valutando se ci sono ancora le condizioni per mantenere il rapporto pubblico privato, magari sperimentando qualcosa di diverso, ma su questo mi lascio essere un po' evasivo perché non so se questa procedura poi alla fine sarà realmente possibile. Comunque Radio Sargeri continuerà a funzionare e questo credo che sia il primo respiro di sollievo per la cittadinanza.